E' tornato Lussorio, l'ha visto, l'ha aperto la porta Ah, c'è il regalo di Lussorio, torno subito Vieni qua, lì, lì, lì E' tornato Lussorio Stiamo tornati tutti, casa Giuba Casa Giuba Io ho fatto il regalo a Lussorio, deve sbustarlo qua in camera Posso sbustarmi il mio qui? No, quel tuo è la droga, quindi non puoi sbustarlo Dai, stiamo venuti Sto scherzando, ragazzi Non è vero, ragazzi Mi ha fatto un mandarino Lussorio? Gli ho fatto un regalo a Lussorio Sette, grazie mille per il prime Grazie mille per il prime, bello Adesso ve lo porto in live Grazie mille per il prime, comunque non è vero che la birra Veroni è di Barboni Non è vero Toglio il cellulare Non è vero All'esterno, ma Nota di merito 1 Ok, questo è il mio packaging L'ho fatto io Con le mie mani So curioso anche io, non lo so che cos'è Nel biglietto non c'è scritto niente Il biglietto è vuoto perché non sapevo che scrivere Poi perché l'ho messo in realtà ci ho pensato tardi Vico, grazie 100 bits Unboxing Mi dispiace per il packaging perché è proprio bello Eh, lo so, lo so In realtà c'è il biadesivo ma questo è biadesivo Solo che non mi riuscivo ad attaccarlo Quindi l'ho attaccato pure qua Strappo? Strappa la carta Strappa la carta Se fosse stata mia madre avrebbe detto Non strappa la carta che la riutilizziamo No, mamma dà le carte anche del Natale del 97 È una collezionista? Sì Ciao mamma di Diego È un ecologista Non frega È una bambola gonfiabile? Secondo me? No, non lo è Non è una bambola gonfiabile? Occhè la via qua sopra Eh, ok Ah sì Venga, fai lo su Ma si vede? No Dagli un Buon Natale Questo è te che porco Dio Lusso, lusso Questo è per te Mezza, grazie di due euro, bello Pera, grazie di me Grazie di me Comunque non è vero che la birra Veroni è di Barboni Scusa, questa è una mia piccola gag Ok Ok, non tiene la via Ti aiuto? Dai Un regalo per te Grazie La mia è ancora Tagli qua Ci dobbiamo Che cazzo è? Ma serio? È un monopattino Non è un monopattino Che cazzo è? Vieni, vieni più qua, non c'è avanti Che cos'è ragazzi? Chat È una ciclette È una ciclette Così lei di quel culo grosso che c'hai Dai, dai, dai Cazzo di merda Ti posso abbracciare il live? Non si può Si può? Sì, siamo coinquilisi Ecco qua Così potenzi Così potenzi la tua massa muscolare Grazie La porti via come un cadavere Esatto Me ne vado È costata quella che è costata È una cicla, eh? Dai, tieni Vieni, tieni Grazie E' quella questa Ciao Torniamo a noi Pronto? Eccoci qua Oppela C'è stanno 10 kg di bamba No, non c'è stanno 10 kg di bamba È solo, semplicemente Una cicletta Erax Un caro 6.000 per i due C'ho detto Rarox Lorenzo S per il prime Chiara per il prime Pede per il sub Sì, ho regalato una cicletta Perché mi piaceva come cosa E poi perché si fa palestra Quindi Cardio in casa È sempre una buona cosa Pantani Comunque Torniamo Simone basta Non farti male Noi non crediamo a quello che ci dici Che perdi i soldi per intrattenere Dai cerca aiuto Guarda quanti amici E se hai bisogno Sai che noi ci siamo Basta che chiami Arrivano i pentiti E queste slot Ti rovineranno Ti scordi più Non riesci più a restituirli E non voglio Più vederti così Ho scritto saldo basso E tu che ricarichi No Non ce la faccio più Simone basta E tu che ricarichi Ma No Grazie a tutti.